Sagron Miss è un piccolo comune di 186 abitanti. Per arrivarci bisogna raggiungere l'estremo confine del Trentino attraversando il Primiero e scavalcando il passo Cereda, arrivando ad appena 5 chilometri dal confine con la provincia di Belluno. Il paesaggio è spettacolare ma le occasioni di lavoro non sono moltissime in un paese tanto isolato. Per questo l'amministrazione comunale si è attivata per offrire alla gente del luogo un'alternativa che permettesse anche di incentivare il turismo. Lo scorso settembre è stata inaugurata la baita Sagron Miss Dolomiti, realizzata con contributi provinciali e data in gestione ad un giovane padovano con esperienza nel settore. Lui a sua volta si è impegnato ad assumere solo persone originarie del luogo. Siamo fissi, 4 persone. Poi nei periodi dove c'è più lavoro sempre la gente del posto vengono a chiamata. La baita Sagron Miss Dolomiti ha quindi portato turismo. La struttura è dotata di 18 camere e 43 posti letto. Ha dato respiro all'economia interna. Il paese si è spopolato parecchio insomma perché non è che ci siano molte opportunità di lavoro qui. Aveva avuto problemi prima a trovare lavoro in zona? Beh era solo stagionale quindi periodi di tempo limitati. Invece qui c'è l'opportunità di lavorare per tutto l'anno. E ha dotato la zona di servizi prima impensabili. La baita ha infatti un piccolo centro benessere, una palestra, un ristorante con 80 coperti di cui si possono servire oltre i villeggianti anche le persone del luogo. All'esterno poi il biolago e la ex cava di inerti che si possono vedere d'estate. Con la neve invece va a farla da padroni e la pista di slettini e i percorsi sulle ciaspole. Inoltre ad aprile proprio di fronte alla struttura dovrebbero partire i lavori per la realizzazione della torre osservatorio denominata T3, alta 32 metri ed affiancata da una parete per l'arrampicata che richiamerà ulteriori visitatori nella valle e i progetti per mantenere i giovani sul posto continuano. La percentuale di giovani a Sagromis è oggi molto confortante. Abbiamo anche a mio avviso delle eccellenze sul territorio, dei giovani bravi nell'informatica, dei creativi, dei grafici e quindi stiamo cercando di aggregarli per invitarli e spero che accettino alla costituzione di una cooperativa di lavoro.